Il rifasamento è una tecnica di utilizzo efficiente dell'energia elettrica. Attraverso il rifasamento si riduce la quantità di energia trasmessa attraverso la rete e per le utenze meno efficienti si evitano di pagare le penali presenti in bolletta. Sappiamo che qualsiasi apparecchio elettrico come ad esempio motori, pc o lampadine quando sono attive consumano potenza elettrica che noi paghiamo in bolletta. La potenza che noi paghiamo in bolletta viene chiamata potenza attiva proprio perché agisce muovendo il motore, tenendo acceso il pc o illuminando la lampadina. Entrando più nel dettaglio si scopre che queste macchine per funzionare però utilizzano anche un altro tipo di potenza. Aiutiamoci con un'immagine. Come si vede nell'immagine assorbono anche un altro tipo di potenza chiamata reattiva che non svolge lavoro utile ma occupa parte dell'infrastruttura elettrica limitandone la capacità e aumentandone le perdite causate da una maggiore corrente in circolo. L'inefficienza generata è tale che l'autorità per l'energia elettrica e il gas ha stabilito delle penali per le utenze che consumano elevati valori di potenza reattiva. Dalle penali sono direttamente proporzionali all'energia reattiva consumata. Attraverso il rifasamento è possibile annullare la richiesta di energia reattiva dalla rete. Questo comporta tre benefici. Prima di tutto la riduzione delle perdite della rete. Secondo, la disponibilità ad assorbire una maggiore energia attiva dalla rete. E terzo, per le utenze coinvolte, evitare il pagamento delle penali imposte dalla AIG. L'intervento è estremamente semplice. Aiutiamoci con un'immagine. Il rifasamento consiste nell'installazione di batterie di condensatori che funzionano come veri e propri generatori di potenza reattiva. In questo modo, l'energia reattiva viene prodotta direttamente dall'utenza, senza che venga richiesta alla rete. Tutte le utenze, dalle industrie e condomini, possono essere interessate da questo tipo di intervento. Per valutare se sia conveniente effettuare il rifasamento, basta leggere la bolletta, all'interno della quale vengono evidenziate le eventuali penali pagate dai soggetti. La penale può avere il valore anche di alcune migliaia di euro. È inutile continuare a pagare questo penale quando è possibile, attraverso l'intervento di rifasamento, eliminare completamente tale voce. In media, l'investimento si ripaga in uno o due anni. Inoltre, esso è incertivato tramite il meccanismo dei certificati bianchi.